genus balance shampoo per cute e capelli grassi nel doppio formato da 1000 ml e da 300 ml nella particolare formulazione di questo shampoo i nostri laboratori hanno scelto di utilizzare degli estratti di grano e una serie di tensiattivi particolarmente detergenti i tensiattivi sono gli elementi che all'interno di uno shampoo schiumano addensano la crema e soprattutto lavano rimuovono le impunità grazie alla scelta di questi tensiattivi specificamente pensati per una cute e per dei capelli oleosi in breve tempo con l'utilizzo costante di questo prodotto riuscirete a rallentare il ritmo dei lavaggi a vedere i capelli più puliti e per una pulizia che durerà più a lungo Grazie 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 Grazie